Qual è l'augurio per questo Natale da parte del Vescovo di Grosseto? L'augurio di bene, l'augurio di qualcosa che sia profondo, anche se esteriormente ci sono tante difficoltà e forse c'è meno di esteriorità di altre volte, che diventiamo più capaci di stare nel profondo di noi stessi, personalmente, nel profondo delle nostre famiglie, in quel bene che c'è, anche se talvolta ci sono delle tensioni, di andare un po' all'essenziale. L'essenziale è il bene che è in noi, anche se talvolta ne dubitiamo, perfino di noi stessi e di quello che succede nel mondo. Al più profondo di ogni uomo c'è il bene, perché Dio ci ha fatti così, con l'immagine di Lui, e il Natale è ridirci questa immagine. Con tanta umiltà Dio ci viene a ridire che si fa uomo e che quindi nell'uomo c'è questa possibilità, lo dico come lo dice la Chiesa, come lo dice la fede cristiana, di diventare figli di Dio. Questo ci darebbe la forza, se ci crediamo e se lo rendiamo pratico, ci darebbe la forza davvero anche di trovare in noi quella umanità che ci permette di andare oltre tante difficoltà che ci sono adesso. Lo auguro a tutti voi, lo auguro al giunco, che ha questa funzione proprio di comunicare. Talvolta la comunicazione fa più chiasso le cose pesanti, gli alberi che cadono del piccolo albero che cresce. Vorrei augurarvi di essere anche portatori di buone notizie. Buon Natale. Grazie. 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 Grazie.